che paoletto un tizio che è decollato di prepotenza minchia ieri sono stato veramente profetico porca troia mamma mia neanche gli aztechi neanche gli aztechi nel 2012 sono stati così profetici neanche gesù cristo è stato così così profetico come me ieri sera o mamma mia incredibile glielo proprio mandata glielo proprio mandata con la rincorsa a sto schifo merda cosa lorda mamma mia essere immondo cesso pozza di vomito disagio industriale che non sei altro madonna che schifo mamma mia che io non godo mai del ban delle persone che non non sono quel tipo di persona però amica quando hanno bannato quel con gli sbit e adesso che hanno fatto decollare quel babbo di minchia di quel babbo di minchia di paoletto ma non c'è proprio passata la puzza di merda o totale totale ma non una persona infatti è una pozza di vomito una persona non si pone il problema ma non è che non è che lui si deve porre il problema gast è che è come se è come se un tumore ti si fosse asportato da solo la stessa cosa